singolare forma di sensibilizzazione quella scelta dai residenti di via della resistenza che sono scesi in strada compatti lunedì sera posizionando le pattumelle lungo il ciglio della strada protestando verso il diniego attuato dagli operatori della monteco che si sono rifiutati di entrare nell'area condominiale per il conferimento dei rifiuti ore 22.30 via della resistenza una singolare forma di protesta mi sembra di poter dire protesta è il servizio che ci chiedono il comune la monteco perché ci hanno detto di portare fuori le pattumelle il numero civico nostro quello che hanno loro per il versamento dei rifiuti dei rifiuti è questo qua e noi li portiamo giù tenendo teniamo presente che stasera è una situazione ottimale nel senso che c'è solo un conferimento quello dell'umido e sono 56 pattumelle mancherà qualcuno però altri giorni ce ne sono tre per conferimento e quindi le pattumelle saranno oltre 150 che cosa non funziona in questa raccolta abbiamo noi abbiamo individuato un posto all'interno della cooperativa dove mettere i carrellati che non invadevano la strada ed era più comodo per noi anche sono stati tolti invece no non sono stati messi affatto perché la monteca si rifiuto si rifiuta di entrare all'interno del del civico perché viene considerato un'area privata inizialmente hanno detto che non avevano i mezzi per farlo poi hanno detto che un'area privata però mi risulta che in altre cooperative entrano quindi sicuramente non avranno i mezzi per farlo e quindi ci hanno ci hanno detto di fare in questo modo il conferimento giù alla strada tenga presente che qua quando piove è tutto allagato non si può passare manco con i veicoli quindi non sappiamo in quel caso dove andarli ammettere insomma vi ritenete una sorta di cittadini di serie b di questa martina ma serie b non considerate proprio non serie b non considerate ecco siamo fuori serie proprio non c'è nessuna serie che possa possa ospitarci ecco cosa vi aspettate ecco qual è la vostra richiesta nei confronti dell'amministrazione abbiamo fatto la richiesta scritta è stata protocollata venerdì mi sembra l'ho portata io insieme con l'amministratore al comune sulla richiesta abbiamo individuato lo spazio hanno firmato i condomini che erano interessati al conferimento dei rifiuti non ce l'hanno hanno detto che era nulla praticamente perché ormai avevano deciso di farla fare in questo modo allora diamo voce un'altra dei residenti qui in via della resistenza in questa singolare discesa per strada di questa sera e niente stanno facendo la differenziata porta a porta per tetto che porta a porta allora ci hanno dato sti fogli di dire porta a porta ma noi dobbiamo scendere acqua vento sole che che sia sia per portarli giù qua quando si riempie di acqua o un vento forte doveva finire se va a finire un bidone sotto una macchina cosa chi è responsabile siamo noi perché i bidoni sono nostri il comune si toglie di mezzo la montecola tradego non so che che ditta è si toglie di mezzo e sono nostri problemi il problema non è solo nostro perché noi quando non abbiamo i soldi per pagare la spazzatura i problemi sono i nostri non del comune quindi ha fatto la differenziata porta a porta che la facesse chiediamo anche al signor rosario e in pratica il comune ha detto ai propri condomini ai ai condomini di questa di questa zona residenziale ad alta densità devo dire anche di concentrazione pratica di conferire con le pattumelle per strada cioè dovete uscire dall'area condominiale perimetrata e praticamente lasciare quante pattumelle ecco parliamo di cifre di cifre nei giorni lunedì martedì e mercoledì 56 pattumelle giovedì e venerdì giovedì 168 il venerdì 112 da mettere per strada dove passano le macchine si devono bloccare il traffico perché non senza altro non potranno passare cifre insomma molto molto considerevoli grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti